Hai bisogno di un finanziamento? Vuoi vendere o acquistare un immobile? Vuoi rottamare il tuo vecchio mutuo con uno più conveniente? Approfitta delle nostre offerte Royal Fin Servizi Immobiliari di Bonora Costantino, via Poggio 42, a Ginosa, Taranto. Saverio Sanzolino, 53 anni, capo cantoniere Anas, impiegato nel servizio strade provinciali. E' scomparso da Ginosa, comune della provincia di Taranto, il 7 novembre del 2014, da allora, data in cui l'anziana madre denunciò la scomparsa, di lui più nessuna notizia. Al momento l'unica certezza è rappresentata dal fatto che l'allontanamento del 53enne è stato tutt'altro che volontario, a conferma di ciò. Le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza posta all'ingresso della sua abitazione, sita incontrata a Madonna Dattoli alle porte di Ginosa. Nel filmato si vede Sanzolino uscire dalla villa in compagnia di alcune persone. Sono le ultime immagini che lo ritraggono prima della misteriosa scomparsa. Nel filmato si vede che arriva una macchina, si presume che sia una BMW, e quindi scende, mio fratello scende dal furgone, parla con questi due, li fa aspettare mentre lui mette il furgone dentro. Poi lui si avvia verso questa macchina e scende una persona con un cappellino, con una barba, che va nel pulmino a prendere un qualcosa. Si presume, io da quello che ho visto, che pende una cinta, si presume che sia un borsello. Quindi non sappiamo questo borsello cosa poteva contenere. Questa persona si mette in macchina, si avviano e abbiamo perduto le tracce. A distanza di sei mesi, accompagnati dalla sorella Giustina, siamo entrati all'interno della villa. L'appartamento, ancora sotto sequestro, è inaccessibile. Qui il tempo pare essersi fermato a sei mesi fa, inverando agli oggetti che raccontano parte della quotidianità dell'uomo, mentre l'altra resta intrisa di ombre, misteri e segreti che gli inquirenti cercano di svelare. Mesi di angoscia per i familiari che cercano risposte ai tanti interrogativi. Chi sa parli, chiede la sorella, anche in forma anonima, vivo o morto, ridateci mio fratello. Mi appello soprattutto ai ginosini. Se qualcuno sa, parli. Se qualcuno ha visto, parli. Qualcuno che ha assistito a una discussione due giorni prima che mio fratello venisse preso della sua sparizione, parli per piacere. Non mi facciano sapere le cose e poi non le confermano. Io chiedo solo questo, chiedo. Ma perché c'è tanto mertà? Pure io non mi sarei mai immaginata di stare davanti a una telecamera. Mai dire mai che a me non può succedere. Quindi a questo punto invito qualcuno, anche anonimamente. Non è detto che una persona si deve esporre. Mi scriva un messaggio, una telefonata anonima. Ma mi facciano sapere quello che sanno. Perché io sono sicura, anzi certissima, che sanno. Hai bisogno di un finanziamento? Vuoi vendere o acquistare un immobile? Vuoi rottamare il tuo vecchio mutuo con uno più conveniente? Approfitta delle nostre offerte. Royal Fin Servizi Immobiliari di Bonora Costantino. Vi appoggio 42 a Ginosa Taranto.